Gli ingegneri, gli architetti sono tutti dei geniali, perché qui era un territorio che andava sempre sott'acqua, sempre, non è che venga da adesso, hanno fatto una rotatoria sotto il livello dell'acqua, per forza si allaga, è impossibile che non si allaghi. Lei abita qui vicino? Sì, 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 è al terreno là. Quindi lei dice è normale un sottopasso? Sì, è normale perché ti abbassi sotto il livello dell'acqua, se piove succedono queste cose. Poi le pompe vanno, ci sono le pompe a scaricare l'acqua, la corrente quando è che va via? Quando piove, no? Quando c'è il sole, no? Ma qui abbiamo tutti gli ingegneri, gli architetti che sono intelligentissimi, una volta le persone erano ignoranti e facevano le cose fatte bene, adesso invece questo è il risultato.